Pergarena Bianca ve l'ha assegnata, anche se c'è un reclamo in atto, da parte di un altro casale e quindi in settimana si riuniranno i responsabili dell'associazione per riliterare su questo reclamo che è stato presentato e vi leggo l'estratto del verbale. Per la risfida dei trombonieri, la Pergarena Bianca, 37esima edizione dell'anno 2001 dell'anno 2011, l'anno del milenio 2011, abbiamo ripetuto tante volte i giudici di gara, Carmine Avicela, presidente, Vapeno Scala, Nicola De Cesare, Maurizio Senatore assistiti dalla Commissione Tecnica, composta da Giuseppe Vastafirlo, Vincenzo Senatore e Salvatore Pollice e dai cronomatristi del Centro Sportivo Italiano Aldo Scaldino, Michele Vini, D'Andrea Camparteio, da Giovanni Scaldino, con i guardi da Paua Picella, designata dall'associazione Trombonieri, Sfandilatori Familiari in qualità di segretario, sulla storia del bilogo dei perpi allegati, e crediamo che la Pergarena Bianca 2011 sia giudicata al casale del distretto di G зах bandido bandido sam bandido 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 Grazie.